Ben ritrovati ragazzi, oggi voglio proporvi tre gadget da Amazon.it, tutti sotto i 20 euro. Questi gadget li sto utilizzando da un paio di giorni e vi posso dire che per quello che costano secondo me il rapporto qualità prezzo è davvero fenomenale. Iniziamo subito. Questo è il primo prodotto. Una tastiera flessibile. Il prezzo è di circa 15 euro e secondo me li vale tutti. Costa più o meno come una banale tastiera da ufficio ma è infinitamente più comoda. Prima di tutto è portatile, la potete letteralmente arrotolare e portarvela con voi. È impermeabile e soprattutto è comoda da usare. Personalmente non ci credevo. Avendo provato alcune di queste tastiere in passato non mi aspettavo nulla di che e invece questa tastiera nonostante il suo prezzo contenuto e suo stile molto particolare riesce ad essere sorprendentemente comoda e intuitiva per quanto riguarda la scrittura. Ah giusto! Ha anche un potentissimo effetto antistress. Ve lo giuro funziona, dovete provarlo. Il link per acquistarla lo potete trovare nella descrizione di questo video. Passiamo al secondo prodotto. A primo avviso sembra un banalissimo cavetto usb ma è dalla parte del micro usb che si cela la genialità di questo prodotto. Questo è un cavo magnetico. Avete presente i MagSafe dei Macbook? Ora non ci sono più purtroppo ma ciò nonostante questo tipo di cavo magnetico ha salvato la vita a tantissimi portatili nel corso degli anni e qui il concetto è identico. Il connettore vero e proprio va inserito nel dispositivo con cui lo volete utilizzare mentre il cavo si aggancerà automaticamente attraverso dei magneti che sono sorprendentemente potenti devo dire. Guardate. È anche reversibile. Nonostante sia un micro usb si può mettere in entrambi i modi e solo questa cosa per me giustifica l'acquisto. Al costo di circa 11 euro questo semplice cavo potrebbe salvare la vita a molti dei vostri preziosi dispositivi come il MagSafe salvò molti MacBook. Il prezzo è in linea con qualsiasi altro cavo di fascia medio alta e la domanda ora ve la pongo io. Preferireste spendere 11 euro per questo cavo e salvare il vostro dispositivo da spiacevoli incidenti? Oppure no? Prevenire è meglio che curare a mio avviso. Esiste ovviamente anche la versione per dispositivi Apple e dispositivi USB Type-C. I link per acquistarli ovviamente li potete trovare nella descrizione di questo video. E come ultimo prodotto abbiamo l'Elegant. Una cassa bluetooth molto particolare. Questa cassa secondo me vince a mari bassi il premio a miglior rapporto qualità prezzo. Al costo di 20 euro non potrei chiedere di meglio per quanto riguarda design e suono. Anche i bassi non scherzano devo dire. Ho apprezzato questa cassa anche per la sua capacità di non essere ignobile da guardare pur avendo alcuni led estetici. L'unica cosa sono le voci di quando l'accendete che fanno morire da ridere. No su serio, io sono abbastanza sicuro che questo azzeggio sia l'Allspark e che quello che mi sta parlando sia Megatron. E come ciliegina sulla torta il suono dell'ascensore quando arriva al piano mi ha steso. Scherzi a parte, questa cassa suona davvero bene per quello che costa. La batteria dura il giusto e per 20 euro non potrei chiedere di meglio, soprattutto per la risata che riesce a strapparvi. E anche per questa il link lo potete trovare nella descrizione del video. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e scrivete nei commenti quale di questi tre prodotti vi è piaciuto di più. Noi ci vediamo al prossimo video.